E allora ci prepariamo ad applaudire l'arrivo di Chiara Ciuffini della MKG che va così a conquistare il successo in questa manifestazione. Chiara appena una settimana fa il successo a Teramo, oggi il Bissa, la Gran Fonda Alte Cime d'Abruzzo, insomma quando corri nella tua regione le energie raddoppiano. Sì esatto, a casa le energie si raddoppiano ed è un onore fare una corsa sotto le mie montagne, è stupendo il paesaggio e invito tutti quanti a visitarle più spesso perché veramente abbiamo un grande tesoro che va visitato. E allora ci prepariamo ad applaudire l'arrivo di Chiara Ciuffini della MKG che va così a conquistare il successo in questa manifestazione.